Siamo sotto il segno del sagittario. La chiesa ricorda Santa Teodora Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Teodora. Il nome ha origine greca e significa sono di Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 28 novembre del 1969 i Rolling Stones pubblicano l'album Let It Bleed, che diventerà un classico con brani come Onky Tonk Woman e You Can't Always Get What You Want. Nel 2003 l'album è stato inserito alla posizione numero 32 della classifica dei migliori 500 album di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 28 novembre ricordiamo lo scrittore Alberto Moravia, l'oncologo Umberto Veronesi. La citazione del giorno. L'uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo. Gandhi. Dice il saggio. A molti pensieri seguono poche parole. Il bel paese. Il santuario della Madonna della Corona vicino al lago di Garda è senz'altro uno dei luoghi più suggestivi e mistici di tutta la nostra penisola. Meta di pellegrinaggio ormai da secoli, il santuario dà l'impressione d'essere sospeso in aria, incastrato nella roccia, quasi fosse un'opera naturale. Avvicinarsi al santuario della Madonna della Corona vuol dire regalarsi un cammino panoramico, ma faticoso. Un'esperienza comunque ripagata, appena si giunge ai piedi dell'antica chiesa cinquecentesca, sorta nel cuore della montagna del Monte Baldo, per celebrare l'apparizione della statua della Dolorata, mentre i turchi prendevano rodi, dove l'effigie era custodita.